Il tema della vaccinazione infantile continua ad essere dibattuto e il dato che balza all'occhio è sempre lo stesso, ovvero il tasso di vaccinazioni è in calo. In Romagna i dati sono diversificati per ogni provincia e se a Rimini malattie come il morbillo colpiscono maggiormente rispetto le altre province, la motivazione risiede nel fatto che, in base ai dati fornite dalla Regione Emilia-Romagna, la copertura nei primi due anni di vita si ferma al 77,6%, mentre la media romagnola è all'83,3%. Ravenna invece risulta essere la provincia col più alto tasso di vaccinazione contro la malattia del morbillo, con una percentuale del 90%, seguita dal Forlivese con l'83,8% e dalla Cesenate che si assessa all'80,6%. Morbillo e parotite sono vaccinazioni consigliate, mentre per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie come l'antidifteritica, l'antitetanica, l'antiepatite B e l'antipolio-melitica, nel 2015 il dato è sceso, arrivando al 94,3 a 24 mesi di vita. L'anno prima era ad almeno un punto di percentuale in più, ma occorre ricordare che la soglia del 95% è il minimo imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In caso di rifiuto dei genitori per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie si procede ad un colloquio. Successivamente viene fatto firmare un modulo di dissenso informato e in caso di rifiuto di firma del modulo viene inviata la segnalazione al Tribunale dei Minori.